Posso chiederti di quello che hai detto alla tele? Sì. Dicevi sul serio? Ogni singola parola. Tu pensi che far saltare in aria il Parlamento renderà migliore questo paese? Non vi sono certezze, solo opportunità. Beh, puoi essere certo che credi in capucero a chiunque si presenti, dal primo all'ultimo. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. E tu fare in modo che questo accada facendo esplodere un palazzo? Il palazzo è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo. Sono gli uomini che conferiscono poteri ai simboli. Da solo un simbolo è privo di significato, ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un palazzo può cambiare il mondo. Vorrei tanto che fosse possibile, ma ogni volta che ho visto cambiare questo mondo è sempre stato in peggio.